Ciao. Ciao. Chi sei? Felicia Bosi. Cosa fai nella vita? Sono la direttrice artistica dell'associazione sportiva dilettantistica Danzar Studio di Sarzana, insegno, sono maestra di danza e nello stesso tempo sperimento ancora, mi butto nel campo anch'io, nel movimento. Sei appena stata coinvolta nel dodicesimo raduno nazionale delle scuole di circo, se dovessi dare un titolo a quello che hai fatto? È il pieno coinvolgimento dei miei artisti e del mio pubblico in un contesto circense e quindi completamente nuovo nel mio campo. Cosa ti ha motivato a partecipare a questa esperienza? Allora, la voglia di realizzare una cosa, un contesto particolare come la danza, che ha bisogno di una situazione un po' più sua, ormai conosciamo dov'è, dove si colloca, in un ambiente circense e i miei artisti portarli all'interno di questa situazione con oggetti circensi. E in quale ruolo sei stata coinvolta? Allora, praticamente ho dovuto creare una danza con un'idea e trascinarla con i miei artisti e il mio pubblico in un ambiente completamente fuori dalla nostra portata. Per cui dall'oggetto al movimento in una magia completamente, in una dimensione completamente diversa. Il trasmettere questo tipo di emozioni ai miei artisti e coinvolgere il pubblico in questo contesto completamente diverso ci ha dato una nuova energia e una nuova magia. Ma cosa è cambiato? Sei cambiato qualcosa nel tuo immaginario del circo dopo questa esperienza? Lo immaginavo semplice, poi anche da bambina, una cosa immediata, improvvisata, mentre invece all'interno mi sono trovata con degli artisti e dei professionisti a 360 gradi. Ogni gesto, ogni loro movimento c'è dentro creatività, c'è ricerca, c'è professionalità e questo mi ha dato la voglia di scambiare la mia esperienza con loro perché dà tanto e dà voglia di fare. Quindi cosa porti via dopo questa esperienza? Nel cuore e nella testa? La magia del circo è lo stimolo di fare di più, di sperimentare di più e di mettersi in gioco ogni volta. Lo rifaresti? Di più. Un saluto simpatico? Alla prossima! Ciao! Ciao ciao!